Siamo rappresentati all'amministrazione di tutte le difficoltà, anche perché i pacchetti turistici già venduti, già mai commercializzati, questa situazione che parte il 5 dicembre così senza avvertire niente a nessuno e poi prorogata addirittura dopo il 5 gennaio a febbraio, quindi non sappiamo se dal 6 febbraio in poi questa situazione diventa definitiva o meno. Quindi abbiamo rappresentato all'assessore Panini, all'assessore Clemente, tutte queste nostre difficoltà al delegato Langella, ma ancora tutt'oggi, fino a stamattina che abbiamo cercato di chiamare l'amministrazione, siamo in attesa di ricevere risposte. Abbiamo proposto dei carnet, abbiamo proposto un abbonamento annuale, abbiamo proposto delle cifre abbastanza contenute perlomeno fino a dicembre per poi programmare in modo serio per l'anno prossimo.